Ho ringraziato Matteo Salvini che in questi mesi e in queste settimane ha tenuto alta l'attenzione. Attenzione è importante perché stiamo sentendo tutti i giorni il grido d'allarme delle famiglie, degli enti locali, delle imprese che purtroppo si trovano in una situazione drammatica. E quindi adesso ci sarà un provvedimento in settimana che verrà preso in carico. È chiaro che dobbiamo assolutamente puntare a uno scostamento perché è quello che servirà per dare veramente una boccata d'ossigeno in questo momento al Paese e a tutta l'economia del nostro Paese. Oggi, proprio oggi, si è insediata al Ministero di Transizione Ecologica la Commissione PNIEC-PNRR che valuterà i progetti di energia rinnovabile all'interno del PNRR. Oltre 250 progetti su parchi fotovoltaici e un'altra quarantina sui parchi eolici. Una commissione importante che ha il compito di vagliare questi progetti con tempi rapidi e soprattutto con tanta sburocratizzazione, voluta dal nostro Ministero e dal Governo Draghi all'interno del decreto semplificazioni, proprio per dare la possibilità di fare progettazione in tempi rapidi.